Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Oggi parliamo di essere mamme perfette, perché insomma, diciamo la verità, tutti noi vogliamo essere mamme perfette, però è difficile esserlo. Lo so che io sono una mamma perfetta, però insomma, magari alcuni di voi vorrebbero diventare come me e non sanno come fare. Ovviamente sto scherzando, mi riferisco a tutti i commenti bellissimi che mi mandate sempre su Instagram quando mostro Katia o sui vlog che pubblico sul canale, perché mi scrivete sempre che sono una mamma bravissima, che Katia è super fortunata, che siamo una famiglia splendida e così via. Bene, sono qui per sfatare un grande mito. Assolutamente non sono una mamma perfetta. Prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanella se vi piacciono questi video e avete voglia di vederne sempre di nuovi, così riceverete una notifica ogni volta che ne uscirà uno. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Parto quindi col raccontarvi alcune esperienze che ho vissuto in questo anno insieme a Katia, perché ormai insomma manca poco ed è un anno che Katia è con noi, e vi racconto di come in realtà mi sono dovuta aggiustare, ho dovuto aggiustare diversi miei comportamenti, perché non erano assolutamente perfetti come avrei voluto. Prima di tutto vi parlo di quando l'abbiamo conosciuta. Noi l'abbiamo conosciuta ad agosto 2020 ed eravamo in albergo. Quindi i nostri incontri avvenivano sì all'aperto, cercavamo di girare, di fare un po' di esperienze, però insomma alla fine anche le giornate in cui magari rimaneva con noi più a lungo, faceva la doccia con noi, oppure rimaneva anche a dormire, tutto si svolgeva all'interno di una stanza d'albergo. In quei momenti io mi sono ritrovata a fare dei pensieri orribili, se ci penso adesso, ovvero meno male che questa bambina ha già sei anni, perché io non sono assolutamente in grado di tenerla occupata e presto crescerà e io non dovrò più fare niente, che è bruttissimo da dire adesso, perché ovviamente prima di tutto non è vero che un genitore a un certo punto non deve fare più niente, quindi c'è sempre bisogno di interagire, ma soprattutto è anche bello farlo, però io mi sentivo assolutamente incapace, io non avevo nella mia mente, non avevo idee su come poter far divertire questa bambina, non avevamo niente, e lì dobbiamo anche dire questo, quindi non avevamo ancora giochi, non avevamo un po' di intrattenimento, non ci conoscevamo, quindi anche questo è secondo me un elemento importante e soprattutto la cosa che ha avuto maggior peso in questa vicenda è il fatto che eravamo in una stanza d'albergo, quattro pareti, un letto e un bagno, quindi insomma è chiaro che la vita quotidiana, quindi qui a casa con un paese intorno, un giardino, dei nonni, dei parenti, degli amici, è tutto diverso, ma io lì non me ne rendevo conto ed ero terrorizzata, io mi sono ritrovata a pensare, oddio ma cosa ho fatto, io non sono in grado di gestire una cosa del genere, perché comunque mi sono trovata una bambina di sei anni, da un giorno all'altro, a vivere con noi. Questo ovviamente per farvi capire che ho avuto paura e ho avuto dei pensieri nei quali mi sono sentita inadeguata e probabilmente all'inizio lo ero, perché insomma ero diventata mamma da pochissimo, ma con il tempo ho imparato a gestire questa cosa, a gestire il tempo con lei, a divertirmi anche io insieme a lei, capire che cosa le piace fare, che cosa no, e quindi insomma ad apprezzare anche il fatto che nonostante abbia sei anni è ancora veramente una bambina ed è bellissimo giocare insieme, quindi niente paura a quelle mamme che anche chi ha partorito insomma si si trova un pochino nel panico all'inizio su come gestire il rapporto con il proprio bambino. Un'altra cosa che mi rimprovero molto è il fatto che all'inizio della nostra vita insieme credo di essere stata troppo severa con Katia, nel senso che diciamo io per l'esperienza che ho avuto e le famiglie adottive che ho conosciuto avevo paura di viziare diciamo troppo la bambina, nel senso che una bambina aspettata per tanto tempo, tanto voluta, arriva finalmente in famiglia il rischio che questa bambina, insomma qualsiasi cosa chieda, le venga subito data ovviamente c'è, non solo da parte dei genitori ma anche di tutti i parenti perché siamo talmente felici che sia finalmente arrivata che qualsiasi richiesta poi deve essere esaudita perché vogliamo solo vederla felice. Dato che io avevo paura di diventare un po' troppo permissiva oppure di farla vivere in una campana di vetro perché lei è stata adottata, deve essere trattata con i guanti eccetera eccetera, io ho fatto l'errore opposto quindi ero esageratamente severa, pretendevo forse un comportamento perfetto che nessun bambino può avere quindi mi arrabbiavo per delle piccole cose, cercavo di correggerle e di farla comportare come farebbe per l'appunto un bambino perfetto e non è possibile. Sono stata rimproverata dai miei genitori e lì ho aperto gli occhi e mi sono resa conto che forse Katia era una bambina perfetta così com'era e che quindi mi potevo un po' lasciare andare, che va bene ogni tanto mettere il muso, va bene ogni tanto fare un piantino perché siamo arrabbiati per una cosa piccolissima, va bene ogni tanto concedere, non lo so, delle caramelle in più o camminare scalza per casa, ecco io dico delle cose a caso però veramente erano queste sciocchezze che mi facevano sentire un po' una Rottermeier invece insomma bisogna essere un pochino più elastici, l'ho imparato col tempo e il nostro rapporto è anche enormemente migliorato chiaramente nonostante Katia sia una bambina perfetta per l'appunto che è bravissima e non mi ha mai fatto pesare niente però ho visto che è stata meglio dopo che ci siamo un po' rilassate anche io e Riccardo. Un'altra cosa che mi capita di fare purtroppo è arrabbiarmi quando vedo che Katia non ha voglia di fare i compiti vi dico solo questo, una delle cose, delle poche cose diciamo che sapevamo di lei quando l'abbiamo conosciuta era che non le piaceva fare i compiti quindi è una caratteristica che ha da sempre fin da quando era più piccola e quindi l'abbiamo anche riscontrata un pochino ecco in questa prima elementare che si è appena conclusa. In realtà credo che il suo sia un comportamento abbastanza normale come tutti insomma ci sono delle giornate in cui abbiamo più voglia giornate meno però insomma all'inizio quando aveva ancora una un'idea non troppo precisa di come funzionasse il sistema scolastico e la scuola per l'appunto lei si ritrovava spesso a piangere, si impuntava per fare dei esercizi, non aveva voglia di farli e io mi arrabbiavo. Mi arrabbiavo tanto nel senso che alzavo la voce, la facevo piangere, insomma è anche quasi ho proprio vergogna a dirlo ma in realtà penso che tutti i genitori capitano di poi di sgridare un figlio e questo verso i due lacrime però diciamo che mi sono sentita delle volte forse di aver esagerato ma questo perché? Perché dovevo ancora capire come prenderla. Sicuramente lei ha un passato particolare che ovviamente ha determinato anche il suo rapporto con i compiti ovvero il fatto di non aver quasi frequentato l'asilo quindi non aveva ancora un'idea precisa di come si sta a scuola, di che cosa si fa a scuola, del perché si debbano fare i compiti a casa, come si debbano fare e quindi forse se mi fosse messa un po' più nei suoi panni l'avrei capito prima e ci saremmo risparmiati un po' di lacrime. Ovviamente dopo la situazione si risolveva sempre, ci sono gli abbracci, i baci, ci sono anche le scuse perché mi è capitato anche di scusarmi, scusa mio amore è esagerato, ti ho sgridata troppo, dai tranquilla riposati due minuti e poi ricominciamo. Però insomma l'ho dovuto imparare anche io con l'esperienza e se guardo indietro un po' mi spiace però alla fine è così che si impara. Un'ultima cosa che mi capita di fare, che voglio raccontarvi e questa credo che molti genitori si ritroveranno in questa cosa, è il fatto che ogni tanto sono felice che Katia stia con i propri nonni. Ovviamente io adoro stare con lei, se sto una giornata senza di lei mi manca, ho voglia di sentirla, non vedo l'ora di tornare a casa per poterla vedere, però un bambino è chiaramente impegnativo e io ringrazio il cielo di avere i suoceri e i miei genitori vicini a casa per poter anche loro partecipare alla crescita di questa bambina. Quindi mi capita ogni tanto appunto di portarla a casa dei miei genitori e lei quando va lì di solito rimane tutto il giorno e me la riportano, ce la riportano a casa la sera. E queste giornate a volte per me sono importanti e diventano anche preziose perché le uso per non so pulire casa ma anche soltanto per guardare una serie tv in pace, per guardarmi un film, per dormire perché è impossibile dormire con lei in casa. All'inizio insomma mi sentivo un po' in colpa, dico magari non sarò una mamma così brava se a volte sono felice di rimanere un po' di tempo da sola, però in realtà poi mi rendo conto che la vita è frenetica, la vita è sempre piena di impegni. Io quando Katia c'è sono veramente felice e quindi se ogni tanto ho bisogno di un po' di tempo per me non c'è niente di male visto che comunque lei è in un posto dove sta bene, si può godere i nonni, io non li ho praticamente avuti i nonni quindi so, ho sentito questa mancanza, quindi so quanto sarà importante per lei in futuro e quindi alla fine va bene così. Insomma queste sono quelle piccole cose che mi sono venute in mente e che mi sono accorta insomma di aver vissuto in maniera a volte anche dolorosa e che mi hanno fatto imparare, mi hanno insegnato ad essere una mamma migliore. Quindi io sì sono una mamma perfetta come tutte voi che mi guardate proprio perché siamo imperfette, proprio perché impariamo man mano, come fanno anche i nostri figli perché anche loro crescono e imparano a rapportarsi con noi nella maniera migliore. Il nostro rapporto si affina, migliora, a volte si litiga, si piange, ci si chiede scusa e si torna, si fa la pace e si torna ad amarsi esattamente come prima e più di prima. Quindi a volte quando si guardano i social e si vedono mamme che sembrano per l'appunto perfette si può provare anche un po' di invidia e io non voglio che questo succeda con me. Quindi ricordatevi che nei social si mostra sempre il lato bello e il lato gioioso, nei momenti in cui litigo o sgrido Katia io non accendo la telecamera e non riprendo ovviamente, ma questo non vuol dire che siamo mamme meno brave. Quindi nessuno è perfetto, siamo tutti perfetti, l'importante è che ci sia tanto amore, tanta comprensione e tanta voglia di crescere e imparare dei propri errori. Io spero che questo video un po' chiacchiericcio vi sia piaciuto e che vi abbia in qualche modo insomma dato qualche spunto di riflessione e come sempre vi chiedo nei commenti di farmi sapere che cosa ne pensate, per me è molto importante. E niente, io vi ringrazio fin da ora e ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao! Grazie a tutti!